Fernanda che è lunga da montare sta poltrona. L'abitatore che hai comprato non funziona, mi tocca fare tutto col cacciavito. Sarà un botton da struccar, leggi le istruzioni. Leggo le le istruzioni, non si capisce niente, la lingua che si avvicina di più al italiano è strogoto, va bene? Mi tocca imbriagarmi per capire qualcosa. Lidia, quando si compra uno strumento, deve avere le istruzioni anche in italiano, se no è fuori norma. Campagna di sensibilizzazione all'acquisto consapevole. Visto? Ecco la tua poltrona. Meraviglia, però quella del negozio mi sembrava più comoda. Eh beh.